E' stato così per la nostra vita, Dio ci ha strappati letteralmente, ha sgridato le potenze del nemico e sulla croce gridando ha potuto dire O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Cristo ha trionfato e continuerà a trionfare, è per quel grido che noi ci troviamo qui stamattina a glorificare il suo nome Ma il grido del Salvatore del mondo che ha gridato sopra la morte per salvare noi peccatori e quel grido è riconoscibile dal diavolo, il suo grido potente e efficace ancora nella nostra generazione Il grido del Signore Gesù apre ogni realtà e ogni strada, questo è il grido che ancora il Padre ascolta perché Gesù sta mediando per me e per voi Voi pensate che il Signore, se ha udito quella voce, non sentirà a favore di qualche peccatore stamattina? La voce di Gesù che dirà, Padre perdona loro perché non sanno quel che si fanno? Signore intercedi per noi questa mattina Noi a volte pensiamo che le persone che respirano siano in vita, bisogna vedere qual è il loro stato spirituale nel cuore Io mi auguro che stasera dei morti spirituali possano risorgere in Cristo Gesù il Signore E quando la morte ode quella voce non può trattenere i morti, li deve risorgere perché Gesù è il risorto dei morti Se ieri il grido di Gesù di fronte alla morte ha riportato in vita questa bambina e Lazzaro Io credo che il Signore stamattina può riportare alla vita tanti cuori che hanno bisogno della pace in Cristo Gesù Quando Satana accusa i suoi figlioli, quando Satana è pronto ad additare i nostri peccati e le nostre debolezze C'è un altro grido che interviene a favore dei figli di Dio E nel libro di Zaccaria leggiamo Ti sgridi il Signore, Satana Ti sgridi il Signore Non è costui un tizzone scampato dal fuoco? Signore intercedi per i tuoi figli stamattina E fa che se l'avversario vuole accusarci, la tua voce lo possa arretrare Non è costui un tizzone scampato dal fuoco?